Si è svolta presso l'Aulamagna della Sapienza una conferenza per verificare le soluzioni tecniche per la gestione ecosostenibile del ciclo dei rifiuti urbani e per mettere a fuoco come sia possibile affrontare la complessa problematica. Oggi stiamo trattando in Aulamagna sotto il profilo scientifico tecnologico il problema dei rifiuti che non possono essere semplicemente un abbandono in discariche indiscriminate ma possono essere un sistema di risorse recuperate e riportate a un valore superiore addirittura a quello della discarica. Dall'incontro emerge un fatto secondo me importantissimo che non è da sottovalutare anche se sembrerebbe ovvio che forse esiste un luogo che è l'università dove questi argomenti si possono trattare a 360 gradi coinvolgendo anzi facendo partecipare tutti i protagonisti partendo dalle imprese per l'istituzione passando per le istituzioni arrivando fino al singolo cittadino. Il nostro paese al contrario di molti altri stati europei incontrano poche difficoltà nello smaltimento dei rifiuti. La situazione è particolarmente complicata nel Lazio dove la chiusura della discarica di Malagrotta è stata rinviata a giugno e non si conosce con precisione se e quando verranno aperte le nuove discariche di Riano, Corcolle e Pizzo del Prete. Diciamo che la cosa più forse deludente o inquietante è questa che per il dopo Malagrotta si stia discutendo non nel senso di vedere la dislocazione in un qualsiasi sito di poli industriali ma la realizzazione di nuove discariche come se il passato non avesse insegnato nulla. Dalla conferenza sta emergendo che la situazione per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti in Italia, in particolare nel Lazio, è particolarmente critica. Secondo lei quale potrebbe essere la soluzione per questo problema? In questo importante appuntamento alla sapienza si fissano le varie tipologie di smaltimento, il problema sta nei pesi di queste tipologie, cioè quanta roba deve andare in discarica, quanta roba invece deve essere raccolta in maniera differenziata piuttosto che incenerita. Su questo oggi siamo alla vigilia dell'approvazione del piano regionale sui rifiuti che sarà un documento che non può che far altro che prendere atto della norma che dice che entro quest'anno si deve raggiungere il 65% differenziata. Allora forse bisognerebbe preoccuparsi di come raggiungere quell'obiettivo e correre verso quell'obiettivo con il porta a porta, con la prevenzione, il riuso, con tutte le cose che 1290 comuni italiani oggi già fanno. Ma secondo lei entro il 2012 sarà raggiunto questo 65%? Diciamo che prima si parte meglio è, sicuramente non fissando obiettivi più arretrati si raggiungono quelli più avanzati, si tratta forse di un'istituzione come la Sapienza che propone questo tavolo di trovare le modalità per raggiungerli, copiare anche dove i comuni hanno già messo in campo cose andando a guardare quello che già succede in alcuni comuni e quartieri anche del Lazio. Alla conferenza erano presenti diversi comitati contrari alla costruzione di nuove discariche e inceneritori. Come mai voi del comitato siete qui oggi? Ma è l'ennesimo incontro a cui assistiamo e a cui siamo obbligati a partecipare perché ormai sono oltre sei mesi che stiamo combattendo contro la creazione di nuove discariche e di inceneritori. Quindi siamo venuti ad ascoltare le istituzioni che per l'ennesima volta non si sono presentate e non si espongono verso i cittadini. Noi quello che chiediamo è il rispetto delle leggi. Allora il 18 verrà approvato il piano regionale dei rifiuti che però non dà nessuna indicazione di come raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge. Io penso che la via d'uscita ci sia sempre nel senso che bisognerebbe indicare con chiarezza il percorso che si intende appunto percorrere. Cioè è un problema di credibilità delle istituzioni. Certo l'idea di fare delle discariche sia pure provvisoria e ripeto è un fatto che sembra replicare una storia infinita. Invece è ora di far vedere cose nuove, nuovi impianti eccetera eccetera.